A Baveno Boxing Day sarà una giornata dedicata allo sport e in particolar modo ai giovani che avranno la possibilità di vedere dal vivo la pratica del pugilato in tutte le sue forme quindi incontri di pugilato giovanile, sparringio e incontri di box olimpica. Il programma prevede che al mattino dalle ore 9 fino alle ore 13 si svolgerà un criterium regionale con la partecipazione di 10 società del Piemonte, circa 80 giovani con una fascia d'età compresa tra i 6 e i 12 anni. Box Verbania da sempre inclina alla pratica della nobile arte per i piccolini parteciperà all'evento con ben 12 dei suoi portacolori, dalle ore 16 avrà inizio una serie di incontri di pugilato olimpico con 3 incontri di sparringio e a seguire ci saranno 9 match di box. Queste sono state le parole della Box Verbania, siamo molto entusiasti per questa manifestazione resa possibile grazie al contributo di molti privati in quanto abbiamo fortemente voluto rendere l'iniziativa gratuita per tutti affinché molte persone possano vedere dal vivo la box.